Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo L'antapressione subtropicale è ancora protagonista all'interno del Mediterraneo Lo sarà almeno sino alla giornata di giovedì, sino alla mattina di giovedì Dopodiché romperà aria più fresca dei Balcani e farà crollare le temperature Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi giorni Per quanto riguarda questo martedì, ancora una giornata molto stabile Dominata dal sole quasi ovunque, al più qualche densamento pomeridiano in montagna Con basso rischio di fenomeni, al più qualche breve scroscio di pioggia temporale A ridosso dei rilievi, le temperature molto alte Massime tra i 33 e i 35, punte anche di 36 gradi negli aree interne a bassa quota Minimetro a 19, 25, 26 gradi Parliamo ancora di temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni